Fibra ottica, di questo parliamo oggi, vedremo come è fatto un cavo, come funzionano i vantaggi rispetto al rame e l'infrastruttura in Italia. La fibra ottica è una tipologia di cavo per la trasmissione di dati nato circa intorno agli anni 70 e principalmente negli ultimi 15-20 anni usato per internet. Un cavo in fibra ottica molto simile al classico cavo ethernet diciamo in rame cambia il connettore finale ma soprattutto quello che c'è all'interno. Infatti le informazioni sono trasmesse attraverso impulsi luminosi ma in realtà in un cavo del genere di magari 6 mm circa la parte utile, quella che veramente trasmette i dati, è minuscola. Sarà grande circa ma anche meno dei fili da pesca, ecco veramente minuscolo. Ed è pazzesco pensare come meno di un millimetro passino giga di dati. Beh un cavo è composto innanzitutto da un rivestimento esterno chiamato jacket, la parte di gomma che ecco tocchiamo. C'è poi un'altra parte chiamata strength tanning, letteralmente rafforzamento, che ha il compito di rafforzare il cavo fatto in un particolare materiale il kevla proprio resistente sia alla trazione sia al piegamento. Infatti capite che sotto le strade, sotto i mari deve fare un bel po' di curve. C'è poi il coating ovvero il rivestimento esterno della fibra. Infatti qua siamo solo materiali che vanno a proteggere la fibra all'interno che è super delicata. Tra l'altro il coating, oltre alla funzione di protezione, ha anche una funzione di identificazione. Infatti nei cavi di fibra che passano sotto le strade ci sono molte fibre e possono essere conosciute attraverso il coating che ha colori diversi. La vera parte di fibra è costituita da due parti entrambe fatte di vetro, il cladding e il core. Entrambe spessi circa 0,1 millimetro, qualcosa di minuscolo. E principalmente all'interno del core passa veramente il vero impulso luminoso. Insomma potremmo dire che jacket, string tanning e coating fanno parte del cavo. Invece cladding e core fanno parte della reale fibra. È fatta di vetro ma ovviamente essendo un vetro molto sottile anche ai piegamenti non si rompe. Certo magari evitare di metterlo proprio, fare una piega a 180 gradi. All'inizio della nostra fibra quindi c'è un laser che va a sparare la luce all'interno del cavo. E la luce si muove basandosi sul principio della rifrazione interna. Ma totale è un principio fisico su cui non voglio dilungarmi. Ma comunque sapete che cladding e core, le due parti che costituiscono la vera fibra ottica, hanno due indici di rifrazione diversi. Quindi il nostro segnale può sentire che rimbalzerà su e giù, su e giù, muovendosi così. E arrivando fino alla fine. Alla fine quindi ad esempio all'interno delle moden c'è un altro dispositivo che va a leggere questo segnale luminoso e lo va a ritradurre in impulso elettro. Quindi alta tensione, bassa tensione. La tecnologia che viene usata su tutto il cavo in rame. Quindi 010101. Ma quali sono i vantaggi rispetto al classico cavo di rame? Beh come sappiamo tutti è più veloce. Ma perché è più veloce? Beh la risposta sta nel fatto che la fibra ottica ha un'attenuazione del segnale decisamente minore rispetto al rame. Infatti il rame dopo già qualche metro ha perso moltissimo segnale. Quindi la velocità che poi avremmo in internet diminuisce. La fibra ottica invece mantiene il segnale praticamente per tutta la sua lunghezza anche chilometri, chilometri e quindi la velocità è altissima. E in generale anche perché la tecnologia poi la fibra ottica, quindi gli impulsi luminosi permettono di far passare una bolla di dati decisamente maggiore. Ha poi però altri vantaggi, ad esempio non è soggetto a interferenze come i cavi di rame quindi anche vicina, attaccata a cavi di corrente, ecco non perde segnale anche con quelle mega canaline dei condomini dove passano cavi antenna, cavi di corrente, cavi di rame. E soprattutto parola un po' particolare è future proof, impermeabile al futuro. Cosa vuol dire? Che anche col passare del tempo, anche con l'aumentare della richiesta di internet questa tecnologia sarà comunque in grado di adeguarsi e quindi anche trasportare una bolla di dati molto molto maggiore rispetto a quella che può trasportare tuttora. Cosa che il nostro caro vecchio amico rame non è riuscito a fare perché dopo 20 anni circa è diventato decisamente obsoleto perché le nostre abitudini sono decisamente cambiate e nei prossimi anni cambieranno ancora moltissimo. Parliamo delle varie architetture di firme, insomma dei vari contratti che sottoscriviamo con l'operatore. In generale i contratti che possiamo sottoscrivere sono un FTTH o un FTTC ovviamente a seconda della nostra zona, a seconda del nome di dove abitiamo perché FTTH significa Fiber to Dome quella fibra che ci arriva direttamente in casa, direttamente nel nostro appartamento direttamente nel modem e quindi è la situazione migliore poiché abbiamo la fibra praticamente da noi e le velocità sono pazzesche si arriva fino a 5-10 gigabits per secondo. C'è poi un'altra tipologia, quella forse un po' più diffusa ovvero la FTTC, Fiber to the Cabinet quindi la fibra arriva fino all'armadio stradale e poi a casa nostra arriva il classico cavo di rame e quindi si perde un pochino di velocità sono comunque velocità più che accettabili si piace intorno ai 100 megabits dipende dalla situazione e dipende dalla distanza che abbiamo dall'armadio che generalmente sono 300-500 metri. Queste tipologie possiamo riconoscere anche visivamente attraverso dei bollini bollino verde FTTH, giallo FTTC, rosso vecchia DSL. In realtà volendoci sarebbero anche altre architetture come ad esempio la FTTB Fiber to the Building in cui la fibra arriva fino a un luogo comune del nostro condominio ad esempio le cantine e poi gli ultimi 20 metri fino al nostro appartamento sono con il cavo di rame ma è raro sottoscrivere un contratto FTTB vorreste vedere la FTTB solo nel caso magari ci sono dei problemi strutturali che non permettono il passamento dei cavi di fibra fino al vostro appartamento altra architettura la FTTN Fiber to the Node quindi la fibra arriva fino al nodo di smestamento cittadino e magari c'è uno o due chilometri in rame ma è molto poco diffusa e viene utilizzata magari nei primi anni di infrastruttura della fibra generalizzando più la fibra è vicina a voi più andate veloci. Ma allora vediamo un po' questa infrastruttura di fibra in Italia capite che essendo i cavi diversi bisogna riposizionarli in tutto e per esempio non è un'operazione così facile attualmente in Italia ci sono tre reti di fibra parallele se così vogliamo dire quella di Fastweb quella di Team trasformata da poco in FiberCop e quella di OpenFiber all'arte di OpenFiber si agganciano tutti gli altri quindi Vodafone, Wind, Iliad, Tiscali sono molto spesso le trovate tutte e tre assieme magari ti possono essere indirizzico per solo da una di queste quindi magari solo da Fastweb e non da Vodafone e Tiscali dal 2016 il governo ha creato un piano banda ultra larga proprio che si dedica a gestire dove, come, quando mettere la fibra e attualmente a febbraio 2022 sono coperte dalla fibra FTTH e FTDB circa 2.200 comuni un numero decisamente è alto i comuni sono circa 8.000 e l'obiettivo è quello di arrivare almeno a 6.200 escludendo così i comuni quelli più difficili da coprire quindi ad esempio quelli in montagna questo obiettivo secondo alcune estime attuali del governo potrebbe essere raggiunto dentro il 2022 ma mi sembra abbastanza strano sia perché non puoi coprire 4.000 comuni in meno di un anno sia perché andando a andare a vedere le varie aree le varie previsioni di quando arrederà la fibra in determinati indirizzi ci sono alcuni indirizzi che la riceveranno anche nel 2023 inoltre quindi magari metà 2023 ecco per essere un po' più realisti parlavo di aree infatti sono state create delle aree aree nera grigia e bianca per andare a individuare in quale situazione siete vediamoci siamo sul sito del governo banda ultralarga link ovviamente in descrizione qua potete avere varie informazioni sul piano sui vari dati cantieri terminati così ma quello che ci interessa a noi è qui in alto cerca la copertura del tuo indirizzo inseriamo la regione il comune e l'indirizzo e in questo caso vedete che il civico selezionato corso como è 14 è in area grigia nera cosa vuol dire? un civico in area nera vuol dire che attualmente o nei prossimi anni sarà coperto da due o più operatori in fibra ottica fibra ottica FTTH nel caso in area grigia sarà coperto solo da un operatore nel caso in area bianca non ci sono state dichiarazioni quindi molto probabilmente la copertura in fibra ottica sarà tra un bel po' di anni o magari anche recentemente ma gli operatori non l'hanno comunicato in questo caso l'abbiamo in area grigia nera e sarà coperto nel corso del 2021 quindi è già coperto e in effetti qui in basso vediamo che ci sono ben tre operatori in FTTH questo indirizzo è sempre in area grigia nera ma sarà coperto entro il 2023 con fibra ottica e come possiamo vedere qui sotto attualmente è solo attivabile una FTTH tra 100 e 200 megabits per secondo questo altro civico invece è in area bianca quindi molto probabilmente non riceverà la fibra nel corso dei prossimi circa 3-4 anni e neanche adesso è proprio coperto da internet la fibra però non è utilizzata solo per internet infatti ci sono alcuni utilizzi alternativi possono trasmettere dati quindi è comunque usata anche ad esempio in campo medico ma un utilizzo molto interessante è quello dell'antenna tv di trasmettere i dati che poi vanno alla nostra televisione c'è proprio un'azienda italiana che si chiama Fracago che fa impianti antenne tv con fibra ottica molto interessante perché l'antenna rimane sempre la stessa c'è semplicemente un convertitore che dal cavo coassiale con il rame che esce dall'antenna e lo va a convertire in fibra ottica fino a casa nostra dove se create adesso l'impianto poi si riconvertirà in rame per entrare nella televisione ma magari in un futuro ci potranno essere delle televisioni che accettano direttamente al loro interno la fibra ottica un altro utilizzo seppure indiretto della fibra ottica è la rilevazione dei terremoti ci sono alcuni tratti di fibra ottica come ad esempio quello in Italia Tascoli Piccino e Teramo gestito da Open Fiber che sono appunto utilizzate attraverso la tecnologia del Fiber Sensing per rilevare eventuali terremoti perché? perché la fibra essendo appoggiata al terreno in caso di terremoto il terreno si muove la fibra si allunga leggeramente e di conseguenza l'obbligo ci metterà più tempo per arrivare alla destinazione stiamo parlando veramente di pochissimi millimetri e pochissimi secondi ma fanno la differenza che alcuni dispositivi appositi possono rilevare questo ritardo e quindi rilevare un terremoto ovviamente devono essere terremoti abbastanza potenti magari da MyIntudo 5 in su calcolate che questa rete in Italia ha rilevato il terremoto dell'Alaska di MyIntudo 8 i cavi sono già lì perché hanno utilizzato anche per questo tra l'altro una tecnologia che viene altamente utilizzata anche nei cavi sottomarini infatti per trasportare la fibra tra continenti ci sono dei mega cavi sottomarini pieni di fibre che alcuni tratti vengono usati proprio per queste capite che coprendo una superficie molto alta possono essere anche molto precisi vi lascio come nel caso dello scorso video sulle batterie alcuni approfondimenti come sotto nei commenti sulla fibra come antenna tv e sui cavi sottomarini mi raccomando se questo video vi è piaciuto un bel mi piace iscrivetevi al canale noi ci vediamo al prossimo video ciao